La commissione ha approvato l'esame finale del master e ha anche segnato dei punteggi a ognuno di voi che sono espressi di centesimi e i punteggi sono i seguenti Basile 98, Boldetti 100, Delia 98, Fasola 100, Fontana 98, Laginestra 100, Manfredi 98, Marino 100, Mucaria 98, Proietto 98, Sabatini 100, Tirrito 100, Uberto 98 e Verrelli 98 Quindi avete ufficialmente il titolo e spero che siate soddisfatti della rama di qui No, non lo siamo fatti Un complimento a voi per la fatica e l'impegno che ci avete messo e anche la posizione a tutti quelli che ci hanno invitato Va bene Se per caso volete venire con noi a festeggiare andiamo tutti a casa di Giuseppe Antonia a cena Se volete aggiungervi No, volete chiedi Siete i benaconi Volete chiedi sotto roccia Abbiamo già preparato Abbiamo già preparato Noi speravamo di festeggiarvi domani È andata così Se riusciamo a organizzare l'incontro Grazie 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 Grazie